Questi ragazzi sono entrati con l'anima e il cuore in questo ballo particolare che ci riporta attraverso quello che sono un po' le prerogative del ballo che in America sta trovando sempre e sempre di più delle cose straordinarie. Ovviamente sto parlando di programmi TV, spettacoli e tutto quello di più che può essere. Sto parlando di Hip Hop e We're Around Fears, il bravo che ci propongono. Un bel applauso! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie! Grazie!